Ragazzi ci tengo a precisarvi che in questo video riderò un pochettino troppo forse però vi giuro che non ero cannato ma stavo in chiamata a Skype come vedrete alla fine del video con Tony Game e Suto Antonini che se non lo conoscete è un mio caro amico e quindi no, non sono cannato e vi lascio al video E bello a tutti i mozzarelloni, io sono Cipo e questo è un nuovissimo video per augurarvi buon 2016 perché questo è l'ultimo video che uscirà quest'anno, forse no perché questo video uscirà alle ore 18 del giorno 31 dicembre 2015 quindi dico ufficialmente che questo è l'ultimo video dell'anno, ufficialmente, ufficialmentissimo e quindi ragazzi vorrei augurarvi buon 2016 a tutti quanti voi che state guardando questo video e a chi non lo sta guardando ovviamente perché sì e quindi ragazzi vorrei augurarvi buon 2016 perché questo 2015 per molti aspetti è stato un anno veramente brutto per cose che adesso vado a dirvi nello specifico però vi dico soltanto che non è stato un anno proprio dei migliori però nello stesso tempo è stato anche un anno diciamo bello perché ho comunque conosciuto persone fantastiche come appunto Tony Game, Suto e altre persone che sicuramente stanno guardando questo video e quindi ragazzi volevo augurarvi buon 2016 a tutti quanti, l'avrò detto per la decima volta e quindi ragazzi per questo 2015 come ho fatto? all'inizio dell'anno sono partito che ci avevo 100 iscritti neanche ma ne avevo forse sì sui 100 ne avevo adesso siamo arrivati a fine 2015 che ne abbiamo 300, 200 iscritti in un anno tipo Tony Game, tipo lui in un anno ne avrà fatti milioni oppure Stepnik lui in un anno ne ha fatti 900.000 io ne faccio 200 e sono contento lo stesso ragazzi fidate di me, sono contento lo stesso ebbene sì ragazzi, propositi per l'anno prossimo sicuramente portarvi molti più video perché quest'anno non vi ho portati tantissimi a causa di vari impegni scolastici vorrei anche portarvi contenuti di migliore qualità con Tony, con Suto, con altre persone, comunque in compagnia di persone e boh ragazzi, altri obiettivi non ne ho per quanto riguarda il canale per quanto riguarda la vita creata, ne ho più che mille e quindi ragazzi, questo era l'ultimo video delle vacanze, sì, di quest'anno e che dire, ci vediamo poi al prossimo video lasciate un like, un'iscrizione, un commento da questo vlogghettino è tutto bye bye guardate qua la faccia di Tony Game che è intento a capire cosa sta succedendo forse non riesce a realizzare e questo vediamo un suoto selvatico che che comunque è da ci per tutto questo è, vi giuro che è l'ultimo saluto finale pari pari grazie a tutti